ciao ragazzi e bentornati su hard rock crypto qui è muro per voi oggi voglio parlarvi del progetto waves una piattaforma open source per applicazioni decentralizzate è un progetto nato nel 2016 e basato sul consenso proof of stake e uno degli obiettivi principali di waves è quello di sfruttare al massimo la block chain con un consumo energetico minimo in modo da essere il più possibile ecosostenibile quindi vediamo un attimo le caratteristiche di questa block chain allora innanzitutto waves permette un mondo di nft dao e altri nuovi modelli di business poi scalabile viene offerto un servizio veloce a basso costo eco friendly come vi dicevo prima mirano essere una block chain il più possibile ecosostenibile e infine aperto waves si collega ad altri ecosistemi per una facile interoperabilità andiamo avanti e ora vediamo un po delle statistiche di questo ecosistema posizione nel market cap 46 esimo 2.8 miliardi di dollari in valore totale bloccato nella di fai nella finanza decentralizzata circa 32 mila transazioni giornaliere con un totale di transazioni 255 milioni di dollari poi non ve l'ho detto waves ha una sua moneta nativa ovviamente che si chiama allo stesso modo waves e attualmente ha un prezzo di circa 31 dollari e mezzo e tra l'altro come potete vedere nel grafico di coin market cap nell'ultimo mese ha fatto molto bene poi proseguiamo costo medio per transazione circa 3 centesimi di dollaro una circulating supply di 108 milioni di token di cui 79 per cento sono attualmente in staking e ora arriviamo all'ecosistema di waves che offre una buona varietà di progetti e prodotti sviluppati dalla comunità e ora andiamo a vederni alcuni e partiamo con la dfai e andiamo a vedere exchange che è un dex di nuova generazione che combina un classico exchange con l'order book assieme alle liquidity pool di un automated market maker eccolo qua il nome devo dire non è proprio dei più originali ecco questa è la parte trading in versione exchange classico come potete notare con l'order book il grafico l'indicatore e tutto quanto fatto molto bene poi abbiamo le pool ce ne sono diverse le potete scorrere vedere i vari ap y la parte relativa alla governance e poi infine una sezione dedicata a diversi tipi di investimento attualmente su questo exchange decentralizzato ci sono 144 milioni di dollari bloccati poi abbiamo swap file un automated market maker basato sulla blockchain waves ovviamente che combina diversi tipi di puli liquidità per asset volatili e stable coin attualmente circa 22 milioni di dollari bloccati vediamolo brevemente c'è la parte dedicata all'exchange c'è il farming la governance c'è anche un launchpad i vari social e poi arriviamo a virus finance che è un protocollo di liquidità per il lending e per il prestito di asset e qua abbiamo una total value located di 1.5 miliardi di dollari e questa come appare la piattaforma e le percentuali devo dire che non sono per niente male vedo un 24 23 per cento su usdt un 18 92 su usdn questo usdn che è il neutrino usd lo abbiamo visto anche negli altri protocolli di che cosa si tratta è la stable coin algoritmica del protocollo neutrino dove ci sono bloccati ben 1.8 miliardi di dollari che permette anche la creazione di stable coin legate a specifici asset del mondo reale come ad esempio valute nazionali o materie prime come la definisce qua una stable coin algoritmica che permette una defy sostenibile pegata al dollaro americano e garantita da waves e su questo protocollo con lo staking si può raggiungere fino a un 15 per cento di apy sui nostri usdn bene abbiamo visto la parte riguardante la defy vediamo un attimo anche la parte riguardante gli nft dove abbiamo sign che è il marketplace nft più grosso di questo ecosistema non c'è molto da dire molto simile a tanti altri marketplace di altre block chain vedete qua che cos'è sign art è una web gallery di arte digitale certificata dalla block chain ovviamente dedicata agli artisti e creatori ma anche i collezionisti hanno anche uno utility token il sign tra le caratteristiche basse gas fee il mint on cene gratis a quanto pare eco friendly appare come un classico marketplace nft con opere 2d 3d da vari artisti internazionali dedicato ovviamente a tutti gli appassionati di arte digitale e poi per chiudere andiamo a vedere il gioco che va per la maggiore su questa block chain e si tratta di wave ducks eccolo qua un gioco dove questi paperi sono i protagonisti fatto di vari collezionabili è un play to earn un gioco molto basilare si combatte uno contro uno un gioco simile a tanti altri che sono usciti negli ultimi mesi e fondamentalmente sono delle battaglie tattiche tra carte collezionabili avete i vostri personaggi come vedete illustrato qua un tempo di gioco la vostra vita e ovviamente chi vince viene ricompensato quindi fondamentalmente le cose che si possono fare su questo gioco sono collezionare e giocare ovviamente contro altri giocatori mettere in staking i nostri nft per guadagnare gli egg token e poi si può fare l'upgrade spendendo questi egg e migliorare il nostro personaggio e a quanto ci dice qua c'è una media attiva mensile di circa 296 mila giocatori bene abbiamo visto alcune delle applicazioni principali di questo ecosistema per chi è interessato a costruire o comunque a partecipare attivamente alla comunità di waves nella parte dedicata alla documentazione che vedete qua e nel menu in fondo trovate tutto quello che vi può essere utile sia per i principianti che per i più esperti infatti come potete notare ci sono le sezioni per chi inizia come questa sulla blockchain waves per beginner oppure parti dedicate a sviluppatori e programmatori come questa per costruire apps o questa per programmare con ride che è il linguaggio di programmazione di waves poi ci abbiamo anche la parte dedicata ai nodi le app per ecosistema e per mantenersi in contatto con la comunità e ora prima di chiudere brevemente la roadmap di questo progetto noi siamo qua a waves 1.0 ma l'obiettivo è quello di arrivare a un waves 2.0 vediamo quali sono i punti chiave che vogliono raggiungere innanzitutto il primo step che vogliono raggiungere quest'anno un nuovo tipo di consenso in modo da essere compatibili con la evm la ethereum virtual machine questo è sicuramente un passo molto importante poi si vuole aprire un nuovo modello di governance un altro punto molto importante rendere la blockchain waves cross chain in questo momento si stanno creando dei bridge tra cui anche gravity bridge che attualmente è ancora under construction poi ovviamente vogliono buttarsi sul mondo del metaverso come un po tutte le chain ultimamente quindi vediamo un attimo la timeline a marzo è stata appena fondata la compagnia negli stati uniti ad aprile maggio verrà lanciato un incubatore per i team americani sempre ad aprile verrà rilasciato un light paper del nuovo waves 2.0 ci sarà il lancio della nuova mother dao a giugno e poi sempre a giugno verrà lanciato questo bridge gravity che vi ho appena fatto vedere solamente per gli mvp bene ragazzi con questa panoramica di waves e del suo ecosistema è tutto per oggi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate come sempre se vi è piaciuto questo video disintegrate il bottone del like qua sotto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanellina per rimanere sempre aggiornati vi aspettiamo sui nostri social e alla prossima sempre qua su hard rock crypto